Campari Wines Allora, realtà importante del mondo del vino in Italia e non solo, ma Vinitaly presenta alcune delle sue valute. Ma quanti vini oggi commercializzate? Allora, in Campari Wines abbiamo un portfoglio molto molto ampio ed avendo coperto sostanzialmente le particolari e principali regioni vitivitiche italiane abbiamo 12 aziende vitivinicole e addirittura arriviamo ad avere più di 170 etichette nel nostro portfoglio. Per quante bottiglie è venuta in Italia e nel mondo? Allora, stiamo parlando di circa 12 milioni di bottiglie di vino fermo. E la divisione tra Oreca e Consulers? Allora, noi siamo presenti sostanzialmente in Oreca con la quasi, con la totalità delle nostre aziende. Le uniche due aziende che hanno una presenza anche nel canale moderno sono Sele Mosca e Fazio Battaglia. Sele Mosca, aziende proprietà e Fazio Battaglia, aziende distribuzione. Per cui siamo comunque decisamente molto più spostati verso l'Oreca. Che è comunque, secondo il nostro punto di vista, il vero canale per il tiro. Iniziative particolari che avete in cantiere per promuovere i vostri vini nell'Oreca? Noi siamo molto attivi nel canale ristorazione e quello che facciamo è tendenzialmente quello di fidelizzare i nostri clienti con attività diverse. Ovviamente avendo un portfoglio così ampio riusciamo a soddisfare tutte le richieste del consumatore e del nostro cliente e del ristoratore. Abbiamo fatto alcune attività specifiche su alcune nostre cantine, ad esempio anche a livello locale. E cito ad esempio Peruzia e Butò in Toscana o Sele Mosca in Sardegna. Creando delle serate dedicate, coinvolgendo il nostro ristoratore che invita i propri clienti alla serata dedicata ai nostri vini e alla nostra cantina. E tutto viene comunicato al consumatore anche attraverso quotidiani locali. Strumento che utilizziamo in maniera abbastanza importante. Questo tipo di attività ci consente di essere molto vicini al consumatore finale e di dare l'occasione al consumatore finale di gustare i nostri vini in serate piacevoli. Ovviamente i vini vengono offerti dal ristoratore al cliente finale.